Tutti in classe, dopo una lunga estate, si torna tra i banchi di scuola. Tanti nuovi iscritti alle classi prime degli istituti presenti nel Tiguglio che si avviano a cominciare un nuovo percorso nella propria formazione scolastica. Molti gli studenti che scelgono i licei, ma il trend delle iscrizioni agli istituti professionali del Levante Ligure è in forte aumento. La scuola con più iscritti risulta ancora una volta il liceo Marconi del Pino di Chiavari, che quest'anno conta 1580 ragazzi, a cui offre gli indirizzi scientifico, classico e delle scienze umane. Sono 342 gli studenti delle nuove classi prime. A seguire il villaggio del ragazzo con 1.216 iscrizioni totali, di cui 54 nuove. Subito dopo, sempre a Chiavari, si posiziona all'istituto Amedeo Peter Giannini con mille iscritti nei vari indirizzi. Si è interrotta in qualche modo la tendenza che c'è sempre stata negli ultimi anni alla licenizzazione. Si interroba questo e c'è lo recupero dei tecnici e dei professionali. A proseguire la classifica delle scuole superiori più frequentate nel Tiguglio, ci si sposta stavolta a Sestri Levante con l'istituto Natta di Ambrosis, dove la tendenza delle iscrizioni è in linea con quella degli ultimi anni, con 766 studenti totali, di cui 209 iscritti, alle classi prime. Il corso che risulta avere più iscrizioni è il liceo scientifico delle scienze applicate. Anche all'istituto Liceti di Rapallo sono state buone le iscrizioni con un trend che conferma le stesse classi prime dell'anno scolastico 2023-2024 per tre indirizzi di liceo. Qui risultano 700 i ragazzi, di cui 136 nelle classi prime. Nell'ambito dei licei continua ad essere molto gettonato il liceo scientifico. Il liceo classico si assesta più o meno sui livelli del passato. All'istituto Marsano il totale degli iscritti arriva a 700, di cui alle classi prime 120, 9 le classi a Sant'Ilario, 11 ad Arenzano, 10 a Molassana, 5 a Calvari e 3 a San Colombano. Si torna a Chiavari con il liceo artistico Luzzati. Qui risultano 390 gli iscritti totali, di cui 90 i nuovi delle classi prime. In Liguria rimane più alta il fenomeno della licealizzazione rispetto alle altre aree del paese. Quindi, anche se c'è appunto questo decremento, la media regionale rimane più alta rispetto al dato nazionale.